PORFES 2014-2020, AS3 Competitività delle imprese La Regione Liguria investe nella sicurezza della tua azienda. C'è tempo fino al 29 aprile per partecipare al secondo bando del PORFES 2014-2020 per micro, piccole e medie imprese che si dotano di sistemi di autoprotezione per prevenire i rischi alluvionali. Ha disposizione 6 milioni e 400 mila euro da investire in soluzioni tecnologiche per proteggersi dal rischio di alluvione e prevenire i danni da eventi atmosferici eccezionali. Le domande esclusivamente accedendo al sistema bandi online del sito FISE.it Tutte le informazioni su www.porfesliguria.it PORFES Liguria, investiamo nel vostro futuro!